Eguci, il monaco e la prostituta. Personaggi in ordine di apparizione. Waki, monaco. Waki Zure, uno o due suoi compagni. Maishite, una donna. Maschera Waka-onna, Zo-onna o Ko-omote. Zure, due ragazze che cantano. Maschera Waka-onna o Ko-omote. Ai, un abitante del villaggio. Noishite. La prostituta di Eguci. Maschera Waka-onna, Zo-onna o Ko-omote. Fa parte delle opere Kazzura Mono. Svolgimento. Su musica Shidai entrano il monaco e i suoi compagni, che si allineano uno di fronte all'altro. Egli canta che la luna gli è sempre stata amica, con so riferendosi alla luna dell'illuminazione, perché chi cerca l'illuminazione si lascia dietro il mondo, con l'unica compagnia della luna. Un concetto che si basa sulla base della dottrina buddista medievale, che l'illuminazione è un processo che si raggiunge da soli. Quindi, il monaco informa di provenire dal nord, di aver risieduto poi alla capitale, ma ora desidera vedere il resto del paese, e prima di tutto vuole visitare i sacri templi e i santuari del Kinai, le province che circondano Kyoto e Nara, e perciò, in compagnia dei due o tre compagni, è partito proprio oggi. Nel cuore della notte della capitale, hanno disceso il fiume Iodo sulla loro imbarcazione, superando la sala del Cormorano. Deve essere un riferimento a Uji, uno dei tre cinuoghi in Giappone, dove si svolge ancora la pesca tradizionale con i Cormorani, praticata fin dall'antichità, detta Ukai. La zona dove è possibile assistere a tale pratica, si trova non molto distante dal Biodo-in, il padiglione della Fenice. Quindi, i monaci giungono sulla costa lambita delle onde, dove si trova il villaggio di Eguchi. In realtà, Eguchi è ancora più distante dalla costa, almeno ai giorni nostri, e in tale luogo è stato costruito un tempio da Kosubikuni, figlia di Teira Sukimori, il Jakoji, proprio in relazione all'illuminazione di Saegyo, che viene narrata dell'opera. Si dice che dopo la caduta di Teira, Kosubikuni abbia iniziato a fare la cortigiana nella zona di Eguchi, ma in seguito si sia fatta monaca. Il tempio viene detto anche Eguchi no Kimido, e si trova a Minami Eguchi, Higashi Yodokawa, Osaka. Teira Sugimori, 1161-1185, era il secondo figlio di Teira Shigamori, il primo genito e figlio prediletto di Teira Kiyamori. Sarà lui a provocare l'incidente di etichetta del 23 agosto 1170 con l'erogente dell'imperatore, detto incidente Denka Noriyai, per non essere sceso da cavallo come prescrivevano le regole, cosa che condusse poi alla famosa rappresaglia ordinata dei Teira Kiyamori, e narrata nell'Eike e Monogatari. Nel giugno del 1180, sarà presente alla battaglia sul fiume Uji contro Minamoto yurifusa, e il principe Mocito. Nel dicembre 1180, accompagnerà Teira Tomonori a Omi, dove sconfiggeranno Yamamoto Yoshitsune. Nel gennaio del 1185, sarà sconfitto da Minamoto Noriyori a Kojima, provincia di Ibiza, battaglia di Fujita. Nel maggio del 1185, si suiciderà Adanna Ura, annegandosi. Sembra avesse una relazione amorosa con Ukyo no Daibu, 1157-1233, dama di compagnia dell'imparatrice Ken Raimonin, nota poetessa, figlia di Fujiwara Koreyuki, che aveva già avuto una storia con Fujiwara Takanogu. Il monaco vende in lontananza un tumulo, che crede sia stato retto per qualcuno di importante, e incuriosito, ferma l'abitante del villaggio per chiedere informazioni. L'abitante del villaggio risponde che il tumulo segna la tomba di una famosa dama di Eguchi, una prostituta, che visse lì molto tempo fa, una poetessa, sebbene si dica che fosse la manifestazione della botta di Satvat Fugi, e quando il venerabile Saegyo compose una poesia per lei, la dama gli rispose ugualmente con una poesia. L'abitante del villaggio aggiunge che chi onora la sua memoria riceve in cambio guida e conforto, e suggerisce al monaco di farlo lui stesso. Il monaco si avvicina dunque al monumento, e ci informa di come Saegyo chiese alla donna di loggiare da lei per una notte, con questi versi, che egli recita. A dispetto del mondo e di tutti i suoi modi, è arduo, ma al rifugio dell'ultimo momento ti aggrappi come fossi il tuo. E quell'ultimo rifugio era proprio la casa della dama, la prostituta. La poesia di Saegyo e la replica della prostituta appaiono nell'antologia imperale Shin Kukinshu 1206, e l'opera gioca sui significati dell'espressione cari no yado, alloggiare provvedibilmente, che può riferirsi anche all'alloggio temporaneo dello spirito nel corpo, e oscimo, cioè angrapparsi a qualcosa non volesse separare da. In quel momento, una donna chiama il monaco a travassio sipario, poi attraverso la passarella, e gli chiede che cosa lo abbia spento a recitare quella poesia. Il monaco ha sorpreso perché la donna è comparsa da dove non ci sono case, e chiede perché vuole sapere il motivo che lo ha spinto a recitare la poesia. La donna risponde che l'aveva sentita recitare molti anni fa, e l'aveva dimenticata, ma ora, risentendola, le parole della poesia le riportano a mori agli eventi di quel giorno. Il monaco quindi spiega che ha recitato la poesia di Saegyo per onorare lo spirito della dama. A questo punto, la donna chiede al monaco perché non ha recitato anche la risposta della dama? Il monaco e la donna, alternandosi, raccontano quindi la risposta della prostituta che dice che, a rispetto del mondo, la sua sola gentilezza è dirgli di non dare alloggio al suo cuore in un rifugio temporaneo, dato che ha rinunciato al mondo, e non dovrebbe cercare rifugio nella casa di una donna, dato, ancor più, che è la casa di una prostituta, e lei teme che li porterebbe del disonore. Mentre parlano, il monaco nota che la forma della donna diventa più evanescente alla luce del crepuscolo e quindi le chiede chi è. Lei risponde che quella che ha davanti, con sua vergogna, è la donna del suinuoso fiume, la dama di Eguchi. Vi è qui un collegamento tra Nagare flusso e Nagare nokimi che significa prostituta. Non è insolito un collegamento sacro tra le donne e l'acqua e anche con i serpenti. Anche la divinità Benzaitan dell'opera Chikubushima è una dea acquatica dalle forme di serpente. Il monaco è ancora stupito, ma si tratta dunque proprio della donna scomparsa da un tempo fa come un'onda sulla costa selvaggia. La donna dice che lì era la sua casa dove cresceva un susino sbocciato con fierezza e inaspettato giunse un amico con il quale forse aveva condiviso il rifugio di un albero sotto la pioggia o bevuto acqua dallo stesso torrente. Anche queste sono metafore nella quale il susino che sboccia colpisce l'occhio di un amante da tempo atteso e lo conduce da lei. Nell'opera tale amante è il monaco, un compagno nella dottrina buddista. Il condividere un albero come rifugio durante un temporale e bere l'acqua dello stesso torrente sono canonici riferimenti a legami che risalgono alle vite precedenti e continuano a sentirsi anche in quella presente. Poi, piangendo, il fantasma della dama di Iguchi esce. L'abitante del villaggio si alza e annuncia che si recrea a vedere se il monaco a cui l'ha consigliato si trova ancora alla tomba della dama di Iguchi. Quando giunge la tomba il monaco gli chiede se può raccontargli ciò che sa della dama di Iguchi. L'abitante del villaggio è sorpresa e afferma che pur abitandone nei dintorni non ne sa molto ma sarebbe davvero offensivo da parte sua al loro primo incontro dire di non sapere nulla perciò gli racconterà ciò che lui stesso ha sentito dire. Si dice che la prostituta più famosa di Iguchi provenisse dal villaggio di Nakanomi Terai nella provincia di Suo. Per un motivo sconosciuto decise di ricarsi la capitale e giunse qui. Quando sentì dire che Iguchi aveva nel suo nome la stessa E nel suo villaggio nativo di Nakanomi Terai che sta per Foce del Fiume ne fu molto lieta e inoltre Iguchi è abbastanza vicino al capitale e così prese di mora lì e dicono fosse la Bodhisattva vivente Fugen. Nel Senjusho si dice che la prostituta e le sue ragazze cantavano una canzone su Mitanashi nella provincia di Suo nel profondo sud di Onshu nella quale si dice che è nata al porto di Murozumi. Mitanashi e Mitarai sono lo stesso nome. Lo Enghi del tempio di Murozumi dice che Shoku si recò lì dopo aver avuto la sua visione in sogno e un pescatore recuperò dal mare una statua di Kanno che egli prese per sé. Un monaco di nome Shoku pregò la Dea Kanno di poter adurare la fughe in carne ed ossa e una notte ricevette in sogno una risposta ovvero che se voleva bregare fughe doveva cercare la prostituta di Iguchi. Giunto qui Shoku trovò la dama e dieci delle sue ragazze in barca sul fiume che cantavano una canzone e chiudendo gli occhi in contemplazione vide la prostituta rivelarsi come fughe. Stupito riaprì gli occhi ma vide solo la prostituta che egli aveva compreso essere l'incarnazione di fughe. Infine la barca della prostituta si trasformò nell'erfante bianco di fughe e su di esso la Dea salì al cielo. Mentre la vedeva svanire il monaco Shoku si rallegrò che la sua preghiera fosse stata esodita. Il monaco ringrazia dunque l'abitante del villaggio e gli spiega che la sua richiesta è dovuta al fatto che dopo aver registrato la posizione dei seghi o al tumulo della prostituta lui stesso ha visto uno spirito che prima di svanire ha dichiarato di essere il fantasma della dama. L'abitante del villaggio dice che ciò è straordinario ed è convinto che se il monaco e i suoi compagni reciteranno per la dama di Eguchi il sutra di certo assisteranno ad un'altra meraviglia. Il monaco è d'accordo con lui e decide di prepararsi a recitare il sutra. Prima di andarsene l'abitante del villaggio gli offre di alloggiare casa sua se lo desidera. Il monaco afferma di aver viaggiato in tutte le province e raggiunto ogni angolo del paese e per questo si è guadagnato il merito di poter vedere tale meraviglia. Stasera sotto la luce della luna vicino alla tomba della dama Eguchi canterà il sutra per il conforto della sua anima e incredibile vedono avvicinarsi a una barca illuminata dalla luna con la bordo delle ragazze che incantano. Su musica Isei entra la dama di Eguchi tra due ragazze sulla barca e quella sulla poppa mina il movimento del remo. Cantano di essere un armeggio per un amore fugace apponciato morbidamente sulle onde. Sognano il triste sogno di questo mondo dal quale mai si svegliano. La costa di Mazzura dove dama Sayu languidi desideri ricorda le sue maniche abbandonate bagnate di lacrime quando il suo amato partì per il Katai. Mazzura era un porto dei Kyushu. Nell'antichità un ambasciatore in missione ufficiale verso la Cina si fermò lì per un po' di tempo e intrecciò una storia con Sayu Ime probabilmente una cantante. Il dolore della loro separazione è il tema di un'altra opera Mazzura scritta e recitata da Ziami stesso e attualmente non più rappresentata mentre la povera dama del ponte Uji si tormentò per un amore che non giunse mai ed è triste che dicono le loro vite siano simili alla sua. La dama del ponte Uji è una misteriosa figura della tradizione poetica probabilmente anch'essa è una prostituta sebbene di solito venga indicata come una divinità. Ai noi Yoshino tutti quei boccioli la graziosa neve le nubi e le onde sono come schiume sull'acqua e l'amore è vano. Yoshino un villaggio montano a sud di Nara è sinonimo di ciliegie in fiore e anche la neve sulle sue montagne è famosa. Vi si rifiugò anche Minamoto Yoshizune durante la sua fuga da Kyoto per sfuggire a Minamoto Yoritomo nonché il principe della grande pagoda durante gli scontri di Genko che portarono al cadere dello sciugunato Kamakura e vi si ricava anche Toyotomi dei Yoshi ad ammirare la fioritura dei ciliegi solo per fare alcuni esempi. Il monaco prima dice che la notte avanza mentre la luna sale e le voci delle prostitute sulla loro barca sono ricche di seduzione. Poi chiede a chi appartiene alla barca. La dama gli risponde che seppur vergognoso a dirsi appartiene la dama di Eguchi che molto tempo fa viaggiava su di essa di notte sul fiume splendente sotto la luce del lunare. Poi la dama e le due ragazze dicono che non vogliono più rispondere alle domande del monaco e continuano a cantare delle acque dell'autunno sul quale scorre leggera la loro barca dicendo che è ora di riporre il remo e ascoltare la loro canzone. Tale canzone scritta in cinese dai grandi monaci giapponesi Genshi 942-1017 e Jokei 1155-1212 viene ancora cantata dalle cantanti di Eguchi e altrove e fa riferimento alla catena circolare che porta alle sofferenze della rincarnazione senza fine. Eppure sebbene solo l'essere umano possa aspirare all'illuminazione distratti e confusi c'è chi ricade negli inferni inferiori e nelle otto agonie essendo difficile superare il rapporto con il corpo umano immersi nel peccato come giunchi in un torrente. Le donne iniziano quindi a ballare una danza mimica mentre cantano divisioni come la mattina rosa per i boccioli dei ciliesi in fiori le montagne coperte dal broccato dalle foglie d'autunno la brina sui rami in inverno che si scioglie e cade tutte cose che passano e non torneranno e si chiedono come potrebbe l'essere umano sottrarsi a dolore. coltivare un desiderio e non cedervi una voce è bene accolta e un amore che corre profondo il cuore prova delle fitte e le lambra portano ad aggrapparsi le cose sbagliate tutti gli uomini vagano nel reame dei sei sensi a causa di tutto ciò che sente di tutto ciò che vede gettando il cuore nella confusione no, non ho sbagliato il buddismo definisce la coscienza come sesto senso la dama danza una calma giorno o mai e poi continua in mare le sue parole dicendo che sul vasto mare della verità perfetta non soffiano mai i venti delle cinque polveri e dei sei desideri e chi ama non si affligge mai d'amore né boccioli né foglie d'autunno o luna né neve che cade lo addolora sono solo momentanei rifugi perciò non indugere mai il proprio cuore su di essi questo è l'avviso della Bodhisattva Fugen la sapiente e la sua barca diventa il bianco elefante e si eleva fino alle nuvole per poi dirigersi nel cielo verso ovest lasciando dietro di sé gratitudine e gioia qui finisce l'opera il primo manoscritto esistente di Eguchi risalente al 1424 è stato composto dalla mano di Ezeami ha scritto lui l'opera in uno dei suoi trattati ha nota che la musica per la sezione cure sashi kuse della seconda parte è del padre e in suo manoscritto manca dell'informazione musicale di tale sezione suggerendo che tale passaggio fosse già noto quindi è probabile che Ezeami abbia scritto Eguchi tranne che per l'importante passaggio menzionato è altrettanto possibile che abbia dato all'opera la sua forma finale nel 1424 Eguchi mette in scena una visione paradossale una prostituta fa un sermone a un monaco sull'asservimento umano al desiderio indica la via per liberarsene e quindi ascende al cielo come la Bodhisattva Fuge senza dubbio Kanami ha scritto la sezione kurisa shikuse il sermone della prostituta ma a parte di esso esisteva già come una canzone cantata dalla ragazza il Giappone medievale era tanto interamente buddista che una dama di piacere poteva cantare una toccante canzone di devozione e persino testi dei sutra dato che Fuge è una figura di primo piano nel sud del loto la visione messa in scena dal drammaturgo per i guci riassume a suo modo secoli di predicazione diffusa riguardanti il sutra del loto la visione in questione appare nella raccolta di racconti medievali koshinda primo tredicesimo secolo è senjusho metà del tredicesimo secolo ma la figura di seghio non è tanto importante come nella prima parte dell'opera e il luogo non è guci pensi muro un porto simile più in là lungo la costa sebbene l'abitante del villaggio riassuma in modo schematico la storia dell'interludio le spetta di meglio qui vi è un riassunto della versione del senjusho cantando il sutra del loto il santo shoko si era liberato della tirania dei sensi ma continuava a desiderare di vedere fughe in carne ed ossa infine alle sue preghiere viene data risposta con questo messaggio osserva la prostituta più prestigiosa di muro lei è la vera fughe shoko si ricopre ciò alla casa di piacere di muro sebbene ciò non si addicesse ad un monaco e lì lei gli servì del vino e danzò cantando con le sue ragazze giù assù tra le paludi di mitarashi soffia il rapido vento e danzano le onde osserva le dolci onde così è questa la fuga in vivente pensò shoko e chiuse gli occhi allora vide fughe perfettamente reale di fronte a lui sopra il bianco elefante del bodhisattva cantando sul grande mare della verità incontaminata come splende la luna della pura coscienza quando apriva gli occhi la prostituta cantava di onde che danzavano al vento quando li chiudeva vi era fughe meravigliato il monaco se ne andò ed era uscito da poco quando la prostituta morì l'autore del senju shou aggiunge in presenza dell'illuminazione il suono del vento e il rumore delle onde sono tutti meravigliosi insegnamenti shoku 1177 1247 chiamato anche seizan fu discepolo di onen fondatore della setta buddista jodo shu era figlio naturale di minamoto chikasuo ma venne adottato da koga michi chika perciò faceva parte dei murakami genji ma a 14 anni decise di farsi monaco e studiò sotto onen fine ai 24 anni si dice fosse molto colto ed estremo conoscitore dei sutra soprattutto di quello del loto e si diceva addirittura che ricordasse perfettamente ogni cosa dopo averlo sentito una sola volta e fu uno dei pochi discepoli di onen che non venne esiliato o ucciso durante la persecuzione karoku del 1227 la sua tomba si trova al tempio seizan san koji di kiyoto zami conosceva questa storia ma sembra che al momento di includere la sezione kuri ashikuse in un'opera completa non vi abbia pensato più subito era più concentrato sullo scrivere la prima parte e sullo scambio poetico che è il tema principale tale conclusione nasce da recenti ricerche sul manoscritto che mostrano che originariamente la prostituta alla fine dell'opera diventa non fughe ma una non meglio precisata bodhisattva del canto e della danza zami scelse fughe all'ultimo momento e corresse il manoscritto per adattarlo al cambio questo colpo di genio connette la sezione kuri ashikuse esplicitamente con la visione di shoku e rende l'opera indimenticabile lo scambio poetico che si sviluppa nella prima parte compare anche nel senjushio e coinvolge il grande monaco poeta saegyo 1118-1190 un'affascinante figura per molti poeti del medioevo e oltre saegyo spesso tocca il dilemma di colui che rinuncia al mondo ma non può che amare la sua bellezza incontra la prostituta di eguchi lungo il suo cammino attraverso la cittadina e la pioggia lo spinge a cercare il rifugio a casa sua e quando lei non vuole lasciarlo entrare lui la rimprovera con una poesia a cui lei risponde ricordandogli che un monaco non dovrebbe cercare di entrare in una casa di piacere né offendersi per esserne mandato via nelle parole che usa la prostituta gioca sul significato del rifugio momentaneo che saegyo desidera tale rifugio è tanto il riparo dalla pioggia quanto il corpo il temporaneo alloggio con il quale lo spirito orroneamente identifica i suoi interessi quel corpo i cui desideri bloccano la mente e le impediscono di vedere la verità che tutte le cose passano nell'opera la prostituta parla chiaramente di desiderio ciò che invece non dice chiaramente ma la sua persione dichiara è che si tratta di amore erotico che può essere un temporaneo rifugio o finire per perdere una fonte le attribuisce il nome di Tai scritto con il primo carattere del titolo del Sutra del Loto di fatto una volta che la prostituta ha recitato a saegyo la sua poesia lo lascia entrare e i due spendono ore a parlare delle prove della vita e del conforto della religione col tempo saegyo verrà a sapere che si è fatta monaca niente nella storia originale suggerisce chi sia più che un essere umano ma la visione di fugen dell'opera è su un livello del tutto diverso è la più alta aspirazione del prostituta e anche di saegyo il sermone del prostituta del saegyo è un vecchio motivo popolare nelle stampe del periodo Edo 1600-1868 la stessa Eguchi si trova nella zona dell'attuale quartiere di Higashi Yodokawa e sul suolo del Giaccoji si può vedere tra fabbiche e autostrade una cappella chiamata Fugen-in è un curato monumento a saegyo e alla prostituta e alla prossima e alla prossima e alla prossima e alla prossima